Amici in tre minuti, oggi sentiamo l'opinione di un cittadino di Canicattì, Ivan Paci, per quanto concerne l'approvazione del progetto dello stadio Carlotta Bordonaro, appunto qua a Canicattì. Io ho avuto modo di parlare già con l'assessore Angelo Cuva, che mi ha un po' spiegato in cosa consiste il progetto di ridimensionamento della villa comunale e quindi l'ampliamento dello stadio. Ma sentiamo appunto Ivan Paci. Sì, vedi, cara Lavinia, l'operazione, chiamiamola operazione allargamento del campo, sistemazione del campo, non può essere semplificata mettendo la popolazione, cioè chi è a favore dell'allargamento del campo contro chi non è a favore, nel senso che non vuole sottrarre dei metri alla villa comunale, a questo polmone verde, forse l'unico polmone verde che abbiamo. Chi non è a favore dello sport, chi non vorrebbe avere un campo sportivo degno di una città come Canicattì che negli anni è dovuta ricorrere al campo di Ravanusa piuttosto che di altrove. Quindi è un'esigenza e una necessità che tutti riconoscono. Il sindaco ha utilizzato questa cosa per acquisire nel tempo il prossimo anno un dividendo elettorale. Perché? Non si ha una visione del verde in città, una visione dello sport, il campo sportivo si fa qua, piuttosto si fa da un'altra parte eccetera. Qua si vuole dare in pasto a dei cani, scusate la metafora, si vuole dare in pasto un osso in modo tale da mettere tutti contro. C'è una speculazione politica in atto che non fa onore a chi pensa di prendere in giro i cittadini e in questo caso è il sindaco e non fa onore a chi ci cade. Quindi questa operazione non mi sento di parteggiare per una o per l'altra parte. Io direi che la visione di città, chi è sindaco deve pur averla, non può fare le cose spot. Allora abbiamo un problema del campo, abbiamo trovato dei soldi che poi ci sarebbe da dire tanto lì sulle questioni delle pieghe del bilancio hanno trovato i soldi, un comune che è messo malissimo, abbiamo fatto un piano di riequilibrio eccetera e si scoprono dei soldi per allargare il campo. Ben venga, ma tutto ciò, tanti indizi fanno una prova, quindi tutto ciò fa presumere che questa è un'operazione elettorale e che crea esclusivamente un danno, un danno nella misura in cui sottrae dello spazio a una villa, una villa che andrebbe vissuta diversamente da parte dei cittadini, una villa che andrebbe tenuta diversamente da parte di un'amministrazione seria, capace ed efficiente. Ma ripeto, il tutto va inquadrato in una tematica ben precisa, un'amministrazione che naviga a vista e che vuole esclusivamente prendersi il dividendo elettorale il prossimo anno. Molti hanno parlato di polmone, la villa come unico polmone di Canicattì, che cosa ne pensi? Ma è l'unico polmone obiettivamente, certo è che ripeto, siccome è riuscito in questa speculazione il sindaco in questa strumentalizzazione, i cittadini dicono ma chi ci va alla villa, ci vanno solo i rumeni eccetera, scusate la colpa di chi è? Se la villa è tenuta male, se la villa non è un polmone verde per come si deve, se il verde non è curato a Canicattì per come si deve, non è che la colpa è del cittadino, la colpa è del cittadino nella misura in cui butta una carta a terra o la tiene male, ma la colpa è soprattutto dell'amministrazione che non, cioè io sono qua stamattina e per esempio la fontana non funziona, cioè dico che cosa è una cosa banale, ma intanto non funziona, quindi la colpa non può essere del cittadino che vorrebbe degli spazi verdi e tra l'altro il sindaco nei suoi spot elettorali ha puntato tantissimo sugli spazi, sugli spazi verdi, sul verde, sui campi sperimentali, insomma tutta una serie di mi stava scappando una cosa, quindi voglio dire bisogna avere una visione della, una visione della città, cioè allarghiamo due merci per fare chi? E lo so, cioè per fare cosa, cioè per concludere cosa, ma non è che si può dire chi è per lo sport, chi non è per lo sport, tanto più che il sindaco forse non aveva, non era mai entrato in un campo sport, prima di diventare sindaco, quindi è una spopolazione politica bella e buona, che noi rimandiamo al mittente, faccia quello che vuole, poi il tempo ci darà torto o ragione, ma un campo sportivo nel centro del paese non mi pare che sia una cosa ancora nel 2020 che possa, diciamo, andare nell'ottica di una città vivibile, ecosostenibile, tutte le parole che dovrebbero essere care a chi è di sinistra e a chi è del PD. Dietro di te mi hai fatto notare che ci sono due alberi secolari che ovviamente andrebbero abbattuti. Ora io, come tu hai detto, non so o non capisco come verranno date le autorizzazioni per poter abbattere degli alberi secolari o per poter sottrarre, come abbiamo detto poco fa, dello spazio alla villa, togliendo non solo questi due probabilmente, ma anche altri da quello che vedo. Quindi, ripeto, è un'operazione che sta destando, sta suscitando molte perplessità, molti interrogativi da parte di tutti. Diciamo che una scelta del genere andava condivisa, andava discussa, ma ripeto, non si è voluto tenere in considerazione, non si sono volute tenere in considerazione le varie, le varie, diciamo, idee o le varie opinioni che le forze politiche, le associazioni di ambientalisti eccetera potevano avere.